Buongiorno ragazzi, è da più o meno una settimana che qui a Dubai possiamo uscire e camminare all'aperto durante il giorno il lockdown è stato diciamo tolto durante il giorno e messo solamente di notte, quindi alle 10 di notte tutti in casa e la cosa che comunque c'è poca gente che gira per strada a Dubai come potete vedere sarà che fanno tipo 35 gradi di giorno quindi molto molto caldo oppure anche il fatto che stanno tutti in Ramadan e quindi di giorno stanno a digiuno, stanno tutti in casa probabilmente dormono e così che possono mangiare la notte, la sera, quando cade il sole però sì, almeno il lockdown sembrerebbe tolto, alcune delle cose stanno riaprendo non c'è così tanta gente ma ho pensato oggi di farmi un pochino un giro della città e farvi vedere un po' com'è la situa la situa! come vedete qui comunque fuori dal negozio ti dicono che devi stare con mascherina e guanti che io non ho speriamo non mi dicono niente e questo è letteralmente ovunque è aperto tutti i supermercati bisogna essere con mascherina e guanti ragazzi sono le 4 del pomeriggio sono arrivato alla piazzetta del MAC che vedete qua dietro di me volevo solamente vedere se sarebbe stato aperto oppure no ma ancora fanno solamente delivery quindi te lo portano a casa ma non fanno da take away né tipo di vedere e mi ricordo quando stavo qua un mese fa che sia i tavoli la fuori del MAC che i tavoli qua fuori a questo piccolo baretto qua davanti erano pieni di persone e adesso invece ancora non c'è nessuno infatti camminando in giro è quello che vedo che Dubai è ripreso a un 80% direi le macchine ci sono la gente va al lavoro c'è gente per strada ma tutti con la mascherina e per ora tutto ciò che è bar e ristoranti sono ancora molto molto limitati è un po' strano voglio veramente vedere se qua e soprattutto in Italia da noi per quanto tempo rimarrà così se sarà così fino alla fine del 2020 oppure magari prima migliora fatemi sapere da voi perché sono sicuro che in tutti i nostri posti dove stiamo anche stati tutti in Italia ogni regione ogni posto è un attimino diverso quindi mi farebbe un sacco piacere se lasciate un commento dicendo la località in cui siete e spiegandoci un attimino a tutti com'è la situazione da voi mi farebbe veramente un sacco piacere sapere anche Starbucks tutto chiuso nessun tavolo infatti anche qua da Starbucks il limite è di persone però è chiuso dentro e qua ti dice wear face mask, wear disposable gloves, distanza sociale, sanitizer tanto a me sembra chiuso vabbè ci rendiamo una bella lomba raga vista così dopo due mesi fa che c'era un sacco di gente a me sembra un po' una città fantasma siamo arrivati quasi in spiaggia voglio andare a vedere lì un po' com'è ma penso che prima dobbiamo fare il check della temperatura andiamo un po' a vedere che bravi hanno fatto il check della temperatura per essere sicuri che tutti quelli che entrano in questa parte non abbiano almeno la febbre quindi non abbiano sintomi di covid e faccio un giro e vediamo com'è pensando che comunque letteralmente un mese e mezzo fa due mesi fa quando stavo qua era tutto pieno pieno di gente invece adesso non c'è proprio nessuno arriviamo fino in spiaggia vi faccio sapere intanto io mi godo un pochino il sole e faccio i miei 10.000 passi al giorno siamo arrivati a Meras Beach ragazzi è da pensare che questo parchetto verde che vedete qui era dove venivo e metto in sovraimpressione come era un mese e mezzo fa che era piena di gente qua adesso non c'è nessuno anche tutti questi piccoli negozietti che un mese fa erano aperti pieno di negozietti qua adesso sono praticamente per la maggior parte tutti ancora chiusi bella raga come state? raga io mi butto un attimino sulla spiaggia sperando che non mi vengono a dire niente ma veramente c'ho una voglia allucinante di andare in spiaggia e nel mare per chi ama il mare come me veramente vedere questa cosa e non poterci andare con l'acqua che poi adesso è super super limpida la vedo dal mio appartamento è solo un lontano miraggio quanto vorrei andarci ma non si può il clima e tutto sarebbe perfetto e non c'è nessuno quindi metto anche qua io vorrei come era tipo un mese fa c'era veramente un casino di gente invece ancora nessuno mi continuo a fare un piccolo giro però è deserto che tristezza raga questa sarà la vita per un po' nessuno vuole fare amicizia? c'è qualcuno che vuole fare amicizia? niente questi sono i beach park che una volta erano pieni eccolo qua un altro che adesso invece sono completamente vuoti come c'è da aspettarselo e avevo letto qualche articolo che dicevano in Italia avrebbero messo addirittura delle ripartizioni di plexiglass sulla spiaggia siamo matti ragazzi sono le otto e mezza nove io e Sam mi stiamo facendo una passeggiatina e questo è letteralmente l'orario dove tutti gli altri fanno una passeggiata quindi anche se ci sta il lockdown è un po' come lungomare magari a Napoli o nelle città nelle altre città presumo anche a Barcellona se è così che è un orario in cui manca poco alle 10 quindi alle 10 tutti in casa e quindi adesso ci facciamo una passeggiata fuori che il tempo è un attimino più mite fa meno caldo c'è un venticello è bello è abbastanza romantico infatti io e Sam mi siamo romantici guardateci qua niente questa è un pochino la situazione qua a Dubai ci stanno qualche ristorantino che comunque era pieno il ristorante italiano che abbiamo passato benissimo e magari una di queste sere possiamo andarci anche noi ma diciamo che siamo stati ancora abbastanza attenti io e Sam ci sta un pochino un'aria di consapevolezza comunque vogliamo essere abbastanza sicuri e attenti diciamo che non è proprio tutto tornato al normale come prima detto tutto? sì direi nice aggiungo una cosa letteralmente come hanno fatto il marina è tipo una mega passeggiata di non so quanti chilometri tutto intorno però tanto e c'è un sacco di gente che viene qua per correre skate, in bicicletta e tutte queste cose qua che è molto carino molto carino vedere che c'è gente che comunque fa sport si continua a muoversi nonostante il periodo non sia il massimo alla fine noi siamo qua per il fitness lifestyle e vedere che c'è un sacco di gente che appunto comunque si muove prova a fare qualcosa è bellissimo e spero che anche voi state continuando oppure riprendendo a mettervi in forma e qua sotto casa ci sta un parchetto proprio qua che è un parchetto di calisthenics e ci starebbero tutte le cose per fare trazioni piegamenti, addominali, tips è letteralmente aspetta che vi faccio vedere è letteralmente un parchetto completo che io volevo un sacco utilizzare ma purtroppo ci hanno messo questa cosa che dice che è chiusa però guardate sennò qua stavo qua tutto il giorno every day, every night andiamo su? sì ragazzi è la mattina seguente e volevo fare una piccola Kaizen chat perché ieri è una giornata abbastanza soddisfacente praticamente ho messo il primo down payment della collezione Kaizen la primissima collezione e quindi ho pensato perché no vi dico più o meno i costi non vi dico esattamente però vi faccio più o meno capire avere un'idea di quanto ho dovuto pagare per farle e praticamente ho deciso di far la produzione far partire le prime 100 magliette che saranno la drop shoulder t-shirt più o meno un pochino come questa ma in nero col block logo e ho deciso di produrne 100 chiaramente quando uno va da appunto un impianto di tessere di produzione e chiede di customizzare tutto più sono alte le quantità quindi più pezzi uno ordina e chiaramente più si riducono i costi per l'unità praticamente 100 è il minimo per fare tutto in maniera completamente customizzata quindi personalizzata come ho deciso di fare io e dato che non ho ordinati una quantità più bassa il costo per unità è più elevato per darvi un'idea è più di 10 euro stiamo intorno magari ai 12 13-14 euro dipende da quale impianto di produzione adesso questa è l'unica cosa che conta è il costo per unità per produrre quindi fatevi un attimino i calcoli voi questo chiaramente non include non include le spese di spedizioni e l'importo che uno deve pagare in tasse e l'importo praticamente se devi import gli import duties quindi se lo faccio arrivare da un altro paese che non sia europeo allora lì devo pagare la dogana praticamente quindi tutti questi costi chiaramente si vanno ad aggiungere e si vanno anche ad aggiungere ai overheads ma magari facciamo un video separato sui costi quindi pensate al prezzo che vi ho detto pensate alle 100 unità e io ho dovuto mettere giù un down payment del 40% il down payment è praticamente come se fosse un deposito iniziale che dice sì voglio che fate tutte queste magliette per me e quindi ecco la metà del pagamento una volta che ricevo le magliette vedo che la qualità è quella che volevo il design è perfetto così posso pagare poi il restante della somma in denaro quindi ieri ho messo giù quella somma che è abbastanza importante per me però mi fa piacere veramente regare io non lo so io credo in questo progetto credo in voi sono sicuro che alcuni di voi cioè spero che alcuni di voi capiscono il messaggio che mi supportino in questo di conseguenza penso che sia un rischio ma è un rischio calcolato che alla fine è quello che dovremmo tutti fare la vita alla fine si basa su rischi calcolati dobbiamo fare delle cose che un pochino ci spaventano che però diciamo non è che ci buttiamo proprio al vuoto ma pensiamo di aver creato qualcosina che quindi è un rischio ma che ci sarà magari un giorno sull'investimento quindi sì ci tenevo a farvi sapere quello quindi è pagato il deposito la produzione è partita di Kaizen mi fa stra piacere e sperando che fra un mese io dovrei avere tutto per poter fare il lancio e poterlo rendere un successo anche grazie a voi spero detto questo mi ringrazio a tutti questo è il video di oggi fatemi sapere se vi è piaciuto un pochino diverso non c'era fitness ma c'era diciamo nella vita in generale a Dubai fatemi sapere da voi come è perché vorrei veramente saperlo non so sono sicuro che in alcuni posti è meglio che in altri quindi se potete lasciare un commento di dove state la località e di com'è lì la situazione apprezzerei un sacco li leggo tutti quindi mi fa piacere è più o meno essere aggiornato tramite voi pack out qua io torno dentro che devo studiare studiare e lavorare un pochino e vi ringrazio come sempre noi ci vediamo nel prossimo video let's go bye bye bye